eravamo rimasti con questo segreto di Botticelli a pagina 20 no 27 aveva già radunato tutto rimaneva solo all'ultima decisione da prendere luce guarda il pesante volume dell'experimenta che aveva posto sopra il pagliariccio era suo bianchele l'aveva detto molto chiaramente avrebbe portato un peso maggiore vero ma la lunga avrebbe potuto rivelarsi determinante per la sua vita futura mi piacerebbe aprire una pezzeria un giorno aveva timidamente detto un pomeriggio a bianca dando voce all'idea che da giorni la frullava in testa impossibile l'aveva risposta la lei seccamente luce era rimasta talmente sorpresa da non trovare nemmeno la forza di chiedere il perché era stata la stessa marchesa a spiegargliano poco dopo è impossibile che tu possa aprire e gestire una specie di da sola aveva detto e non perché il lavoro sia troppo eccessivamente pesante per una donna ma perché sei una donna non mi fai intendere luce so bene quanto te so bene quanto te che l'essere donna non implichi essere meno abili col piante ma la gente non verrebbe a comprare i tuoi decotti e tutti gli troveresti alla fame nel giro di un mese una mente sveglia e il libro dell'esperimento purtroppo non basteranno a garantirsi la sopravvivenza lei aveva nuito e cercato di ricacciare indietro le lacrime aveva 18 anni non aveva dota e aveva una dubbia reputazione chi l'avrebbe mai sposata ma poi lei davvero voleva sposarsi trovava ingiusto che una donna dovesse prendere marito solo per poter lavorare onestamente lei sapeva riconoscere utilizzare le armi e mali di chiunque altro e non amava nessuno non aveva motivo per sposarsi quella sera quando era tornata nella sua stanza con il volume dell'esperimento sotto il braccio era arrabbiata e frustrata e non aveva potuto fare almeno di scaraventarlo in un angolo per poi pentirsi subito dopo nonostante tutto l'era impossibile pensare di lasciarla san secondo anche se le possibilità di lavorare come speziale per lei erano prossime allo zero ripose il volume nella grande bisaccia dove aveva ristipato un po di provviste per il viaggio e guarda per l'ultima volta la piccola camera che l'aveva portata negli ultimi quattro mesi non aveva mai dormito prima in una stanza fatta di mattoni l'idea di tornare nello soffre dei umidi a casupo la bercetta le metteva i brividi ma doveva farlo camminò lentamente attraverso la grande sala al piantarreno stando attento a non svegliare e a non urtare nessuno dei sarvi che dormivano sul pavimento accanto al cammino era pochi metri dalla porta posteriore che avrebbe utilizzato per uscire dal palazzo quando vede bianca nel piazzano la marchesa era palidissima vestita di nero un colore che non portava mai accanto a lei c'erano un paio di persone tra cui riconobbe suo figlio per maria non sembrava una presenza spetturale contro la madre ma anche il volto era atteso era evidente che stavano aspettando qualcuno luce tentò di distrarsi nell'ombra ma gli occhi di bianca guizzarono verso di lei luce tentò di ritrarsi nell'ombra ma gli occhi di bianca guizzarono verso di lei vieni avanti disse con un tono che non ometteva repliche lo sguardo di bianca non trasmetteva sorpresa o rabbia ma questo paradossalmente contribuì da crescere in luce la paura non sapeva cosa fare scappare era un'idea assurda alla fine tempo era all'ordine pur sapendo che vedendo la bianca avrebbe compreso in pochi istanti la sua volontà di lasciarsi un secondo evidentemente anche tu inizi a leggere bene la situazione si limita a dire sapevi che questa notte qualcosa di importante sarebbe successo e sei venuto ad accogliere il nostro ospite senza che nemmeno te l'avessi ordinato luce sussultò era evidente che lei non sapeva affatto leggere le situazioni altrimenti non si sarebbe mai decisa a partire troppo proprio quella notte tanto meglio così disse ancora bianca guardandola negli occhi mi serviva una persona fidata che si prendesse cura del nostro ospite e che non parlasse in giro di lui e delle sue condizioni tu sei perfetta vieni accanto a me e preparati ad accoglierlo la serata non era particolarmente fredda ma luce si accorse di tremare ancora quando si avvicina bianca in quel momento il portone si aprì e una piccola carrozza fece il suo ingresso in cielo non c'era la luna e l'unica fonte di luce erano le due torce che per maria e l'altro uomo tenevano in mano la carrozza sembrava uscita dal regno delle tenebre perché come i suoi occupanti i cavalli che la trascinavano era completamente nera ma ciò che più colpì luce se ne accorse solo qualche secondo dopo fu l'assenza di rumore che occupava il mezzo di trasporto non voleva che il suo arrivo a san secondo fosse notato quando scese dalla carrozza luce capì il perché di tante segretezze bianca non aveva nemmeno bisogno di presentare l'uomo che era nato ludovico che era diventato giovanni e che tutti conoscevano con il soprannome di giovanni dalle bande nere cosa mi fa venire in mente però cristoffero i promessi esposi il suo abito nero parla per lui ma fu soprattutto lo sguardo che colpi luce gli occhi scuri parevano a mandare lampi e brillavano nell'oscurità come quelle di una fiera l'uomo fulminato sconosciuto che aveva lasciato la torcia a pier maria e che l'aveva preso una mano per farlo scendere dalla carrozza rivolse alla sorella un saluto muto e poi punto agli occhi su di lei era evidente che non si aspettava di trovare ad attenderlo altro che bianca per maria il suo amico gli occhi sembravano volerle leggere l'anima chiaramente con l'uomo era abituato a sondare l'intenzione di chi le stava davanti in pochi secondi e in guerra per lo più erano proprio i suoi occhi l'ultima cosa che i suoi nemici vedevano lucio se l'era immaginato come un uomo maturo sicuro di sé ma in realtà dimostrava poco più di vent'anni una sofferenza che non riusciva a dissimulare il suo fisico atletico li permise di scendere dalla carrozza con un salto ma non poter nascondere la smarcia di dolore il volto era palido e la barba molto rada era completamente vestito di nera aveva l'atteggiamento di chi non ama starsi nel secondo piano non attese l'invito di suo saranno di pier maria e inizia invece ad avanzare zoppicando ma con aria sicura la sola ingresso l'uomo che le aveva teso la mano pier maria e bianca lo seguirono lasciando luce solo nel piazzale dietro di là il portone era ancora aperto in quel momento avrebbe potuto andarsene guardò la porta d'ingresso del palazzo e il portone di uscita che davano verso la campagna nulla la teneva legata a san secondo nulla tranne lo sguardo di quell'uomo aveva la sensazione che lui come la sorella abbesse il dono di ragione nell'anima della persona e poco prima di saccare lo sguardo da lei aveva sorriso fine del terzo capitolo